Valdichiana Calda in vista delle amministrative del 2024, ma sia a Cortona, a centrodestra come a centrosinistra, non sembra facile trovare la quadra. Da Foiano invece arrivano segnali di compattezza per quanto riguarda il centrodestra. È di oggi una nota del gruppo Lega Locale che si dichiara interessato a contribuire effettivamente al movimento civico Cantiere e Foiano, sostenendo la professoressa Laura Paolini. Soddisfatto il segretario provinciale Gianfranco Vecchi, il lavoro del gruppo locale sarà supportato dalla segreteria provinciale per arrivare anche con le altre forze del centrodestra compatti alle amministrative 2024. Ma torniamo a Cortona. Il dado lanciato dal sindaco Meoni, ovvero il rimpasto in quota rosa, non piace ai partiti, anche se la quota rosa potrebbe essere di nomina esterna, perché ciò è consentito nelle città sopra i 15.000 abitanti. Intanto sta circolando il nome del consigliere regionale Marco Casucci come possibile candidato a sindaco di Cortona. Casucci tuttavia avrebbe esortato con una mail il sindaco Meoni ad esprimersi, invece sul rimpasto proposto dai partiti, ovvero il sacrificio dell'assessore Rossi in quota Forza Italia con il lasciapassare del segretario Mennini, che proprio domenica avrà il congresso provinciale a Camucia, per il bene della causa. Il rimpasto non piace però a Meoni, che non è disposto, come più volte detto, ad accettarlo. Nel centro-sinistra si parla invece di primarie, tra Cavallucci, Gori e Vignini, ma anche in questo caso la strada non è in discesa.